il capolavoro che avete compiuto Salve a tutti innanzitutto, questo è stato veramente un anno da ricordare perché è stata una stagione molto importante per noi con la vittoria del campionato che ci ha permesso di andare in promozione il prossimo anno niente che dire, quest'estate quando c'è stata questa fusione tra il colleranesco e il calcio Giulianova c'erano tutte le intenzioni per far bene però sicuramente non è che ci aspettavamo di stare lì davanti per 29-30 giornate di seguito poi formando un gruppo veramente coeso e dei ragazzi veramente straordinari che ringrazio, che si sono messi a nostra disposizione dal 6 agosto fino a domenica 10 maggio è stato veramente un anno strepitoso, adesso soprattutto ringrazio tutta la società che mi ha voluto che io arrivassi in questo magico club e ringrazio soprattutto la squadra che si è impegnata dal primo giorno fino all'ultimo, come dicevo prima Sì Davide, tu sei stato un pochettino l'artefice tecnico, hai aiutato ad allestire la rosa di questa squadra pensavate in inizio stagione di avere un organico importante che poteva contendersi da prima posizione? Allora ti dico, quando mi sono messo al lavoro, che mi hanno chiamato per ricoprire questo ruolo molto importante dentro di me ero consapevole di aver allestito una squadra veramente competitiva però dai nomi che si sentiva che circolavano soprattutto dalla Virtus Teramo forse sulla carta la Virtus era la squadra da battere poi la Virtus ha avuto un po' di problemi iniziali e noi e Monturene abbiamo approfittato è stata una lotta lunga fino alla fine, come diciamo noi che questo è un motto dal primo giorno fino all'ultimo e alla fine l'abbiamo spuntata noi, anche da non sottolineare l'Atletico Lemba che a nomi aveva una squadra molto attrezzata Per me ci sono stati due fattori molto importanti, il primo è che c'era una squadra che giocava veramente a calcio un bel faseggio, una bella linea di gioco e poi la cosa più importante che per me ho visto c'era veramente un gruppo, erano un gruppo di amici dove si aiutavano l'uno con l'altro ed è stato questo veramente la cosa più che ci ha fatto la differenza per vincere questo campionato Eccoci con Fabio Poliandri, bandiera di questa squadra, bandiera che però ha continuato a sventolare alla grande quest'anno perché 24 marcature in campionato più 4 in coppa sul groppone Fabio che a questa età si iniziano a sentire ma sono valse quest'anno qualcosa di importante L'età si sente purtroppo, sì, intanto ti ringrazio L'età si sente, le bandiere ne sono rimaste poche, ma io non sono una bandiera va bene questo è il terzo anno che sto qui, prima col calcio di Enesco e quest'anno con il calcio Giulianova dopo che c'è stata la fusione Sì, 24 gol, una stagione per noi bellissima che è stata completata con la vittoria Siamo felicissimi, io veramente non credevo di arrivare tanto, cioè di vincere il campionato pensavamo all'inizio dell'anno di fare un buon campionato, di stare nella zona playoff però sinceramente credevamo che c'erano squadre che erano più attrezzate però è andata bene, siamo contentissimi, sono contentissimo per il risultato finale della squadra prima di tutto e poi mio personale va bene per i gol ma va bene così Quando si vince il campionato si cercano sempre le stesse cose, fondamentalmente il gruppo, l'amicizia e tutto quanto ma è come quest'anno è vero perché veramente avevamo delle difficoltà perché quando siamo partiti eravamo pochi ci siamo rincontrati così veramente un gruppo di amici che ci vedevamo anche fuori dal campo abbiamo avuto la possibilità di stare insieme, quest'anno giocando insieme le difficoltà si incontrano, sempre si incontrano però abbiamo stretto i denti anche quando pensavamo che ormai il sogno così la vittoria del campionato ci potesse sfuggire invece siamo riusciti a riprendere anche grazie all'aiuto delle squadre che non hanno fatto i punti però sicuramente se vince il campionato ecco il merito c'è della squadra perché non è una manifestazione corta perché dopo sette mesi, otto mesi di campionato se stai prima vuol dire che un motivo c'è Momento chiave a Montorio, la vittoria di Montorio sì, Momento chiave a Montorio perché sia per quanto riguarda il risultato sia soprattutto a livello psicologico si è fatto sentire cioè la vittoria è stata importantissima per noi ci ha dato un'ulteriore spinta anche perché durante il corso della stagione hai momenti di difficoltà e queste partite ti servono a ritirare sul morale anche la condizione però poi dopo Montorio penso che anche la partita contro l'Atletico Lemp sia stata determinante perché quella è stata la domenica decisiva lì con la vittoria nostra siamo andati in vantaggio e quindi poi abbiamo concluso il nostro cammino nella settimana successiva a Torano Fabio Polanti rimane continuo alla sua avventura col calcio di Vianova anche in promozione? non lo so cioè sinceramente non lo so perché devo vedere innanzitutto se trovo gli stimoli ancora cioè nel senso visti i risultati sì vabbè ma aspettiamo anche qualche ragazzo più giovane che magari possa arrivare e possa far bene io sinceramente non lo so per il momento mi godo questo momento perché è bellissimo condividerlo con la squadra infatti noi ci continuiamo a vedere anche fino al campionato la sera con tutte cioè stando insieme ed è bellissimo effettivamente quindi adesso festeggiamo poi ci pensiamo più in là ci pensiamo dedica speciale per questa vittoria? dedica speciale la voglio fare sì va bene dedica ovviamente a tutti i ragazzi però vorrei fare una dedica particolare a mia sorella che purtroppo ha vissuto dei brutti momenti momenti particolari sta riuscendo piano piano da questa situazione ha subito un grave incidente due anni fa e so io e sappiamo noi della famiglia quello che lei ha attraversato e quello che noi abbiamo attraversato quindi non ho mai detto volgo l'occasione per salutarla e per dedicare a Carla questa vittoria lei è molto contenta di queste cose quindi la saluto e gli mando un bacio grazie Fabio grazie eccoci con il presidente Claudio Archivio del Calcio Giulianova presidente allora è passato qualche giorno da un successo non so quanto sperato beh sì è vero abbiamo costruito una squadra per fare un onorevole campionato è chiaro che dopo le prime tre partite nove punti cominciai a crederci la squadra andava bene giocava un bel calcio e il girone d'andata si stava lì ancora primi e quindi abbiamo creduto veramente in questa vittoria che poi è arrivata alla fine è stato un miracolo è stato frutto di una costruzione sul campo frutto di... adesso non lo so ha una mente ancora calda diciamo così però è stato veramente un grandissimo risultato sono passati quattro giorni diceva lei cominciamo a crederci veramente l'euforia del dopo partita poi pian piano comincia a metabolizzare è stato veramente una cosa grandiosa grandissima esattamente un anno fa si cominciava a parlare appunto finiti i campionati dell'anno scorso si cominciava a parlare di fusione c'è stata questa fusione fusione che ha portato entusiasmo e il raggiungimento di un obiettivo quello di avere in questa società la scuola calcio il settore giovanile è una prima squadra prima squadra che raggiunge l'obiettivo di una promozione quindi si gioca in un campionato che comincia a essere importante quello della promozione e può essere appunto il viatico per rinforzare sia la società dal punto di vista numerico e di importanza economica e sia perché no anche le file della scuola calcio del settore giovanile che possono avere appunto importanza per poter costruire poi una prima squadra diciamo fatta soprattutto di giovani locali di ragazzi di Giulianova può essere l'infavità del calcio Giulianova eh sì sì certo è confermatissimo mister Nicolino Lalloni dopo questo successo non ne abbiamo parlato ma mi batterò per farlo ciao grazie a tutti Grazie a tutti